Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, in questo nuovo video abbiamo molte novità, la prima è che finalmente faccio video in HD e quindi questo video lo potete già vedere in HD, la seconda novità è come avete già letto dal titolo sono arrivato in arena di ghiaccio e si finalmente dopo molti sporsi sono arrivato, ovviamente questo non è il server perché si vede che con l'aggiornamento il mio clan che potete entrarci tranquillamente, cos'altro? Ovviamente le carte non sono tutte leggendarie, non ho ancora trovato nessuna carta leggendaria, ho trovato spirito di ghiaccio e ho anche trovato la nuova carta, ecco, Megasgher che non la uso ovviamente, io sono sempre con questo deck che ho già da molto, ovviamente cambio qualcosa ogni tanto ma costa 4.3 di desir, per me va benissimo, andiamo a vedere il replay che mi ha fatto arrivare in arena di ghiaccio, andiamo a vederlo subito, mettiamo per 2 e vediamo, ovviamente io come sempre inizio qua il gigante, dietro la strega, no, si si, dietro la strega, ovviamente lui qua mi butta giù la torre, la valkyrie, già sapevo barbari, ma ovviamente lascia i miei barbari, non li vede neanche, buttano giù la torre, stregone con goblin lancieri, fanno un po' di donne, rifaccio con gigante e strega, qua la strega mi ha servito molto perché è andata a danneggiare il suo domatore, ma anche i suoi goblin, qua va bene il gigante e la strega, mi butta la valkyrie, ovviamente io qua dovevo difendermi la torre, sapevo di non fare tre corone, però provavo lo stesso, sono gigante, barbari in questo caso, goblin dove difendermi per forza, beh, cosa c'è da dire, grazie, ovviamente mi ha dato 34 coppe e mi ha fatto arrivare in 2308 coppe, ovviamente lo ringrazio, quest'arena bellissima, vediamo un secondo replay che per me, che possiamo vedere perché qua i replay non sono disponibili, non so perché, questo era un po' tosto però alla fine ho vinto io, vabbè, guardiamo questo, ma per quattro, bene, questo era il mio primo attacco in arena di ghiaccio, è un bellissimo attacco, domatore, io rispondo con i ghiaccio, vabbè, vai, la valkyrie era davvero necessaria, se non l'avevo, non potevo fare nulla, ecco vinto, va bene, questi sono stati i replay principali, bene, ovviamente se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e dai, al prossimo video, va bene, è pasta, non c'è niente altro da dire,